L'Asley Teramo ha annunciato l'avvio della fase di realizzazione del progetto di un centro radiologico di primo livello all'interno del distretto socio-sanitario di Montorio Alvomano. Si tratta di un intervento finanziato con fondi erogati dall'Agenzia della Coesione Territoriale Integrati con altri fondi reperiti dal Comune di Montorio, per cui è prevista una spesa di 1.360.000 euro. La cosa importante è che è la prima volta che si interviene in un distretto, in una struttura sanitaria di periferia per metterci un laboratorio radiologico di primo livello, importante, che ha una duplice funzione sia per dare un servizio a tutta la parte un po' di disagiata di cittadini dell'entroterra Teramano e sia perché ci consente anche di tamponare per la riduzione delle liste d'attesa e per dare un supporto a tutte le strutture ospedaliere. Parliamo delle tempistiche, quanto tempo ci vorrà per la realizzazione? Dalla consegna dei lavori avranno tempo sei mesi, andremo in appalto a brevissimo, oramai oggi firmiamo il comodato, già dalla prossima settimana possiamo andare in appalto per mettere in atto questo importantissimo progetto. L'area interessata di 300 metri quadri è posta al seminterrato dell'edificio di Biacelli, che attualmente è poco utilizzato e che sarà ristrutturato e messo a norma realizzando spazi e ambienti sicuri e confortevoli, in cui sia garantita la privacy. Inoltre l'organizzazione degli spazi terrà in considerazione le esigenze delle diverse categorie di utenti, pazienti, operatori e visitatori. Non solo Montorio Romano ma tutto l'entroterra, parliamo di un bacino d'utenza di 30.000 persone, è un progetto iniziato nel 2021, quindi subito dopo l'elezione, insieme a questo grande sogno di dotare l'entroterra di un centro radiologico e di un poliambulatorio che nella prospettiva, anche secondo gli obiettivi dell'Asle, è un ospedale senza letti, un bedless. Cioè risolvere l'80% della medicina territoriale dell'entroterra. Il Fiorarucchiello sarà il centro radiologico, è stato finanziato già dal 2021, poi è iniziato un percorso. Ringrazio il direttore generale, il dottor Di Giosia, che ha portato avanti questo progetto perché ci sono sempre tantissime difficoltà e oggi c'è il coronamento con la firma e quindi l'inizio poi nei prossimi mesi dei cantieri e credo poi tra la fine dell'anno e l'inizio 2025, un sogno che si avvera dopo tante chiacchiere degli ultimi 30 anni.